Complice la natura, è un mucchio di Ethernet abbandonato, continua a seminare pericolo per la salute umana e per l'ambiente. A pochi chilometri dal centro abitato di Campo di Pietra, un grosso capannone in evidente stato di degrado. La copertura in Ethernet in cattiva conservazione rappresenta una minaccia. A pochi metri, infatti, c'è un terreno agricolo e non escluso che le particelle di amianto possono aver già contaminato le aree vicine. Lo stabile area dell'azienda fa solino di oltre 2.000 metri quadrati, ma poco distante ci sono altre piccole strutture nascoste dietro i cespugli alti.